Buongiorno a tutti, mi chiamo Sascha, vivo a Roma da una decina di anni. Ovviamente è facile innamorarsi una città eterna per i suoi monumenti storici. Fra tutti i monumenti ho scelto il Circo Massimo. Il Circo Massimo forse non è un monumento che colpisce così tanto l'opio, ma nonostante ciò è l'amfiteatro più grande che sia mai stato costruito dall'uomo. Ma non è il Colosseo, direte? Nell'altezza forse sì, ma guardiamo i numeri. È lungo quanto sei stagli da futbol odierno, cioè 600 metri, e nell'ultimo ampliamento poteva contenere fino a 300.000 persone, che corrispondeva quasi a un terzo della popolazione dell'epoca. Il Colosseo ne poteva ospitare, solo per fare il confronto, 70.000 persone. Dal punto da cui stiamo facendo il video è più o meno è l'altezza delle tribune da cui spettatori ammiravano lo spettacolo ippico, cioè le corse della Bibbia. Il Circo Massimo è situato nel cuore di Roma, vicino al Palatino, l'appartamento dell'imperatorio. Vi saluto da questo luogo pieno di storia. Buona Roma a tutti!